Buonasera gente, il richiamo salvatore, c'è i puchi nelle tasse e lo so non è normale, non ho visto il sole fabbricano, ho mai parlato troppo, ho lasciato fiamme fuoco per le vie del 68, permettete, sono Armando, e c'è il figlio laureato, torno stanco dall'avuto di sicuro precariato, sono tanto preoccupato, la partita di domani è c'è il supernotto il DG4 e i cesaroni Mi presento sono Anna, quattro figli da mantenere, il maggiore è un gran disastro, non vuole più studiare, Alessandra è un po' puttana, c'è vent'anni o poco più, gira sempre con le amiche e non ci parliamo più, per favore sono stanco, non ho voglia di parlare, forse ho bevuto troppo, non ricordo più il mio nome, voglio ridere di gusto, voglio ridere di dispiacere, vivo sotto una coperta, passato medico maggiore, e vaffa a culo, quando passa questo treno, è sempre più in ritardo, aspettiamo fino al mattino, vaffa a culo, quando passa per arrivare, mi ci spezzerei le dita per raggiungerlo e partire, e vaffa a culo, quando passa per arrivare, mi ci spezzerei le dita per raggiungerlo e partire, e vaffa a culo, quando passa per arrivare, mi ci spezzerei le dita per raggiungerlo e partire, torno infatti, torno infatti, torno infatti, mi scappa di pisciare, e vaffa a culo, quando passa per raggiungerlo e partire, mi fa impazzire, forse aspetta, c'è un bambino, mi ha voglia di gridare, e vaffa a culo, quando passa questo treno, è sempre più in ritardo, aspettiamo fino al mattino, vaffa a culo, quanto manca per arrivare, mi ci spezzerei le dita per raggiungerlo e partire, vaffa a culo, quando passa questo treno, è sempre più in ritardo, aspettiamo fino al mattino, vaffa a culo, quanto manca per arrivare, mi ci spezzerei le dita per raggiungerlo e partire, bravo! bravo! grazie